Indoscopia digestiva, Sapri, il direttore generale dell'Asla di Salerno Antonio Squillante replica alla nota degli inizi di agosto, inoltrata dal deputato del PD Simone Valiante, relativamente agli servizi riscontrati nel reparto, con l'aumento delle liste d'attesa e il blocco delle attività da circa due mesi. Quanto da lei stigmatizzato, scrive oggi Squillante, è una situazione determinatasi in maniera forzosa a causa dell'assenza del dirigente responsabile, il dottore Marco Martorano, per un periodo abbastanza lungo, avendo questi riportato una frattura all'arto superiore. Ha dovuto pertanto impegnarsi a gestire l'attività di reparto solamente uno specialista ambulatoriale, per il quale, peraltro, il direttore sanitario del presidio ha impropriamente richiesto a questa direzione l'autorizzazione al rinnovo dell'incarico in scadenza, pur sapendo che gli incarichi per tale tipologia di personale hanno durata annuale e sono rinnovati automaticamente alla scadenza. Il manager rimanda dunque al mittente le accuse mossegli relativamente all'illogicità di scelte gestionali che si stanno operando presso il presidio ospedaliero di Sapri, e chiarisce che non è possibile coinvolgere altro personale a causa del blocco delle assunzioni. In merito poi alle scelte operate per i centri trasfusionali, che secondo Valiante avrebbero pian piano penalizzato quello di Sapri, squillante replica, nessuna diversa organizzazione è stata operata presso questa azienda e quindi presso il presidio di Sapri, al di fuori di quanto ipotizzato già con l'adozione dell'atto aziendale, nel pieno rispetto dei decreti della Regione Campania, a cui l'atto è stato trasmesso per la necessaria autorizzazione.